Se ti prendi questa medicina, in pochi giorni guarirai. Ma è dolce o amara? È amara, ma fidati di me, ti farà bene. Non ce la faccio. Oh su, Pinocchio, è soltanto una medicina. Amara. C'è storia. Senti, Pinocchio, se non ti prendi la medicina, non guarirai mai. Non è vero. Sì, Pinocchio, la tua malattia è grave. E non me ne importa. No, no? E se poi muori? Non me ne importa. Non te ne importa? No. Non hai paura della morte? No. No? No. Vedremo. Falli entrare. Vedremo. Avanti! Prego! Di qua! Di qua, di qua! Ma chi sono quelli? Tu non ti sei preso la medicina. E adesso sono venuti a prenderti. Come a prendermi? Ma io non voglio morire, ti prego, Fatina! E io cosa posso fare? Ti prego, dobbiamo la medicina, ti prego! Aspettate! Si vuole prendere la medicina ora. E no! La chiamata è stata fatta. A un bar avuto non possiamo tornare indietro. Mi spiace, Pinocchio. È così. Ci dovete pensare prima. La chiamata è stata fatta e la bara va riempita. Giusto? Come va riempita? Datemi la mano. No! Oh, scusa! Ti prego! Non voglio morire, ti prego! Andate! Andate! Che peccato tornare a bara vuota. Vero? Andiamo. Andiamo. Al mio 3, 1, 2, 3, vai! Siamo andati via? No. Se li stanno andando? Sì. E qua? Ora? Sono andati? No. Attenzione! Ora? Sì. Dai, ora esce e prenditi questa medicina. Sì. Dai, ora esce e prenditi questa medicina.